In un castello inglese, nella campagna di Londra, è stata trovata uccisa l'anziana Contessa Wartington. E sti gazzi? Pensa che allora si deve trovare colpevole. Sì, grande capo, ma ci sono tre possibili indiziati. Margaret Wartington, figlia della Contessa. Non ha mai amato molto la madre, ma ha sempre amato molto i suoi soldi. E sti gazzi? Pensa che allora è lei colpevole. Ma aspetti, grande capo, c'è un altro grande indiziato. Harry Wartington, nipote della Contessa. La sua instabilità mentale lo porta spesso ad avere dei pericolosi attacchi di ira. E sti gazzi? Pensa che è lui allora colpevole. No, no, aspetti, c'è un'altra forte sospetta. Greta Krusesmayer, la devota infermiera della Contessa. Lei è l'unica che sapeva dove era nascosto il testamento. E sti gazzi? Pensa che allora è lei colpevole. Aspetti, grande capo, a trarre conclusioni. Lo scopriremo assieme, perché saremo in scena con la commedia Il mistero dell'assassino misterioso. E sti gazzi? In che senso? So finito. Non mancate. No mancate. Grazie a tutti Grazie a tutti